mi auguravo ieri di ricevere per pasqua il regalo del rosone dopo aver fatto vari tentativi mi sa che ci sono arrivato questi sono i bozzetti preparatori che ho fatto del rosone accennati con la matita poi mi sono detto ma io li ho già fatti basta che li compongo vediamo come viene qui ci sono i bozzetti praticamente che ho fatto e adesso faccio il vantaggio come sorpresa di pasqua il mio sacro rosone del cazzo di cui ringrazio profondamente dal mio cuore e lo tratterò con la massima cura lo giuro in questo timpano ci andrà un rosone come quello là grazie a tutti In questo timpano ci andrà un rosone come quello là. Ora glielo metterò con il coso di premier. E mi piace, sono contento. Sono contento. Questa è la sorpresa di Pasqua. Il rosone del caldo. Il rosone del caldo.